Una visita d'eccezione ad Osimo alla Mostra Lotto Artemisia Guercino, le stanze segrete di Sgarbi. Un Vittorio Sgarbi appassionato come sempre di fronte all'arte ha accompagnato per le stanze di Palazzo Campana in un itinerario dedicato quattro ospiti importanti. Il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, l'assessore regionale al turismo e alla cultura, Moreno Pieroni, il cardinale Edoardo Menichelli ed Oscar Farinetti, fondatore della catena enogastronomica Italy, invitato dallo stesso Sgarbi. Dei 140 quadri esposti, il critico ha spiegato ogni dettaglio e la storia dell'autore, non risparmiando battute e rionia e rivelando anche particolari inediti, per esempio quello sull'acquisto del Guercino. Questa mostra, ha commentato il presidente Ceriscioli al termine della visita e dopo aver ammirato anche le grotte di Palazzo Campana, è senza dubbio un valore aggiunto nella nostra offerta culturale. Sono soddisfatto, prosegue il governatore, dell'idea di aver lanciato come unica proposta quattro grandi mostre nell'anno della misericordia. Non l'ha fatto nessun'altra regione e si sta rivelando una scelta vincente. Anche Oscar Farinetti ha commentato a margine della visita la sua prima volta ad Osimo ed il legame che lo lega a Sgarbi. Io conoscevo queste terre perché la mia amica Fulvia Tombolini fa il vino qua, noi copriamo il verdicchio e lo vendiamo nel mondo. Poi c'è l'altro mio grande amico Ampelio Bucci che fa il verdicchio di queste parti, ma ero mai stato a Osimo o Centro. Bellissima, complimenti. Ho visitato le grotte e ho visto questa città fantastica. Io sono venuto a seguito del professor Sgarbi a visitare questa sua mostra perché ci tenevo molto. Sapete noi abbiamo fatto Expo insieme e quindi ci tenevo a vederla e sono molto contento di essere venuto. Alla domanda se avesse intenzione di investire nelle marche con il suo marchio, Farinetti ha risposto che nei prossimi anni sono in programma investimenti solo all'estero e non in Italia. Noi ormai per i prossimi 4-5 anni facciamo solo più apertura all'estero. Noi facciamo il secondo di New York, il 31 agosto dentro il World Trade Center, poi apriremo Mosca, apriremo a Ottobre a Boston, poi apriremo a Copenhagen, ne faremo altri 4 degli Emirati Arby, poi dal 2018 cominciamo a occuparci di Londra, di Parigi e poi torneremo in Italia. Adesso in Italia mangia tanti e torneremo in Italia e ci occuperemo della provincia italiana. Le marche io le adoro e quindi secondo me Ancona è il posto giusto. Alla visita erano presenti anche il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni e il critico d'arte Stefano Papetti, che insieme a Vittorio Sgarbi curerà la terza grande mostra del Giubileo, dal titolo Maria Maddalena tra peccato e penitenza, da Simone Martini a Canova, dal 3 settembre all'8 gennaio 2017 al Museo Antico Tesoro della Santa Casa di Loreto.